I militari della Guardia di Finanza del gruppo di Olbia e della tenenza di Palau, proseguendo i controlli in ambito scolastico predisposti dal comando provinciale di Sasseri, hanno sequestrato circa 30 grammi di marijuana rinvenuti tra le classi dell'Istituto Alberghiero di Arzachena. L'operazione è stata condotta avvalendosi anche di alcune unità cinofile specializzate nell'individuazione di stupefacenti e rappresenta un significativo risultato se si considera la quantità di sostanze psicotrope in relazione all'ambiente in cui sono state scoperte. L'intervento ha portato alla segnalazione amministrativa alla prefettura di due studenti di cui uno minorenne e per un diciassettenne trovato in possesso di 20 grammi di marijuana e di un bilancino alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Sasseri. Le poche centinaia di euro che il giovane avrebbe ricavato dallo spaccio non compensano le gravi conseguenze penali e le sanzioni disciplinari scolastiche a cui presumibilmente egli andrà incontro.